Tra l'altro questa è la settimana, cioè la puntata della settimana di Halloween, i morti siamo noi, cioè siamo noi che siamo KO, non c'è la location perché ma siamo noi. Ci sono anche tutti quelli che mi hanno gostato, che sono fantasmi, belli, ringraziamo, un salutone! Ciao a tutti e benvenuti nel salotto di GNT, il podcast di Tate is for You. Oggi siamo di nuovo qua con Martina, che è sempre la founder di Tate is for You e il tema di oggi sarà il gap year, quindi quell'anno di tempo che la gente si prende dopo le superiori o in realtà molto più frequentemente dopo la triennale. Definizione? Prego! Wikipedia! O Treccani! Ci dicano! Partiamo dalla mia definizione. Gap year è quell'anno come gap vuol dire pausa, anno di pausa in cui che uno può prendersi durante un periodo di vita. Non è definibile, può essere un periodo di pausa di vita in cui pensi a cosa vuoi fare del tuo futuro, o un periodo di pausa in cui vai in burnout, o un periodo di pausa in cui vuoi andare all'estero a imparare l'inglese, o tra triennale e magistrale. Avendo entrambe fatto il gap year abbiamo pensato, perché no, facciamoci su una puntata. Esattamente, esattamente. È un tema abbastanza caldo, se ne parla spesso. Tanto. E si pensa soprattutto che sia un po' inutile, ma in realtà vogliamo dimostrarvi che non è affatto vero. Esatto, con le nostre personali esperienze. Vuoi raccontare lato tuo? Dove hai fatto il gap year? Cioè, perché l'hai fatto? In che periodo di vita? Allora, dopo le superiori non sapevo bene cosa fare. C'era quel classico momento in cui bisogna scegliere che cosa fare, che università scegliere, o se addirittura fare o non fare l'università. Esatto, perché non è scontato. Esatto, poi io esco da un ITIS, quindi un istituto tecnico, facevo grafica, ma era comunque un istituto tecnico, e quindi potevo anche andare a lavorare. Come è successo? Allora, in realtà nella mia famiglia già una persona era nata in Inghilterra, sono andata in Inghilterra, e mia mamma quindi me l'ha tirata fuori. Che mi sei stata imprensata? Ah, è stata mamma allora. Mia mamma... Beh dai, mamma è sempre presente nelle scelte. No, perché c'è un'altra storia dietro, nel senso che il mio fidanzato dell'epoca mi aveva chiesto di andare a vivere con lui. In Inghilterra? No, a Savona. Ok. E io l'avevo detto a mia mamma, però mia madre ha appena saputo che questo ragazzo voleva venire a vivere con me. Ha detto, fugotto! Mi fa, perché non fai come il figlio di Maria, te lo ricordi, che è andato a Londra? Io ho detto, ah boh ma va bene, e poi fa, poi ci pensi eh, se andrà a vivere con questo qua. Poi ci pensi, io, ah vabbè. Solo che non sono andata a Londra, sono andata a... Pronuncia molto semplice. Bormont. E sono andata lì perché? Perché mi sentivo ancora piccola per una città come Londra. Quindi la mia scelta... Quindi sei stata tua a scegliere quella città. E cosa ti ha colpito? Perché è proprio quella? Perché... È proprio carina, cioè c'è il mare e quindi non mi sono nemmeno distaccata troppo da Savona. Ok. È una scemenza, però chi vive vicino al mare poi ne senta la mancanza. Spoiler, io alla fine no, però era bello il fatto che ci fosse il mare. Ok. Era una cittadina piccola, ma dove c'erano tantissime cose e quindi boh, un paese nuovo, mai stata fuori casa prima, una lingua nuova. Ci sta. Quindi ho detto, meglio non buttarmi a 18 anni a Londra, che non so nemmeno da che parte sono girata. Chiaro. Quindi altra cosa, altra cosa carina da dire, quando vai a fare i viaggi all'estero, non per forza di venire nelle città principali, soprattutto se sei più piccolo non te la senti, perché poi non te la godi. Io me la sono goduta al massimo invece quel posto lì, perché lo giravi a piedi. Chiaro. Era comunque grande, però nel senso che se sei ubriaco o marcio puoi tornare a casa a piedi. Perfetto, nessuno... Esatto, questo è il riassunto. A Londra non puoi fare, perché l'ho fatto, perché appunto non sapevo cosa scegliere, infatti mi hai aiutato a scegliere. Sì? Sì, perché lì ho conosciuto tante persone, anche persone da... Più grandi forse. Più grandi, ma in generale persone che da tutta Italia volevano venire a Milano. O addirittura dagli Emirati Arabi volevano venire a Milano a studiare moda. Io ho detto, cavolo, ma io in due ore di treno sono a Milano. Quindi diciamo che è stato anche il punto di scelta della città in cui andare dopo. Esatto, perché mi ha aiutato a capire il punto di vista di altre persone che stanno passando lo stesso periodo come me. Che cosa pensavano loro e alla fine mi ha aiutato molto nella scelta. Bello. Bello. Tutto a posto. Andato tutto bene. Lo rifaresti? Sì. Quanti mesi? Sei mesi sono stata. Era settembre, quindi fine dell'estate, a febbraio. Vabbè, giustamente, è finito il mare e poi dopo sei. Esattamente. Prima è andata al mare. Esattamente. E Marti? Io? Vabbè. Io ho fatto un altro tipo di gap year. Non ho fatto, vabbè, l'anno... Quello serio. Quello serio. Ho fatto un gap year in cui ho lavorato. Non sapevo neanch'io cosa fare dopo la triennale. A maggio, durante la mia triennale, ho detto no, non voglio stare più al Politecnico. Voglio fare un'esperienza all'estero. Era un po' troppo tardi per potermi candidare a andare all'estero. E quindi ho detto, vabbè, mamma, papà, grazie. Io mi fermo un anno. Un attimo di panico in famiglia. Giusto quelle notizie che dici, beh, ti fermi e poi cosa fai? Ha purato panico? Beh, abbastanza. Mio padre era tipo più molto, ma no, inizia la magistrale, non andare a lavorare. Perché poi dopo non hai più voglia. Faccio un anno al Poli quando so già che poi dopo voglio andarmene. Quindi, niente, il mio anno sabbatico, cioè non è un anno sabbatico, è un anno di capire cosa fare del mio futuro, ho lavorato. E ho lavorato in consulenza. C'è uno sbocco da gestionale andare a lavorare in consulenza. E quindi, niente, mi sono lanciata in quel mondo. Che poi tra l'altro non ho mai capito. Cioè, questa consulenza ti è piaciuta o no? Dipende, perché ho fatto due esperienze. La prima, sviluppi le applicazioni, fai un po' la UX e così via. Aspettative verso realtà. Poi mi trovo a fare SAP, SQL, che dico no raga. No, che sappiamo cosa sono. Assolutamente. Tutti noi, sappiamo, sdoganato. Sdoganato. Assolutamente, sdoganato. E niente, quindi non mi piaceva, dovevo fare sei mesi. Chissà perché, sembrano cose talmente... Interessanti. Idilliache. Esatto. Le farei tutti i giorni. E quindi era un po' anche monotono, cioè non c'era quel senso di workaholic, che forse si è capito che mi piaccia. E quindi niente, ho detto, dopo tre mesi, a dicembre, vabbè, mi arriva un'altra telefonata e gli ho detto, super mega figo, il progetto sembrava stimolante. E ho detto, ma sì, tanto qua non sto facendo nulla, non sto crescendo, non sto imparando. E gli ho detto, grazie, è stata una bella opportunità e quindi mi sono lanciata su nuove prospettive. E lì, bellissimo, dovevo fare sei mesi, in realtà poi ne ho fatti sette, poi dovevo iniziare la magistrale. Lì ho imparato tantissimo, cioè tante cose che ho imparato lì sono servite in tesi. Sviluppavo progetti, non so come dire, più project manager. Figo. Quindi lo sviluppo dall'inizio alla fine, il risultato dei processi, BPM. Vabbè, questi sono più gergo consulenziale, esatto. Però bello, molto bello. Quindi tu hai imparato cose che ti sono servite poi per il lavoro che hai fatto successivamente. Assolutamente sì, però diciamo che se non avessi fatto nella prima azienda, sempre il discorso di non avrei capito che quelle attività... Quelle attività erano monotone. Monotone, esatto. Che poi magari ad alcuni piacciono, era molto lenta, quindi diciamo tu avevi scadenze che erano per molto in avanti. Per marti. Invece a me piaceva scadenza ieri, quindi quello è l'importante, quello mi piaceva. Cioè che lavoravi tanto, è brutto da dire, poi sembra. No, vabbè, ci sta. A persone piace lavorare poco, a persone piace lavorare tanto, dipende dai ritmi. Ognuno ha le sue preferenze. Sì, sì, per quello che ci sono diversi lavori, per ogni persona, è chiaro. Il primo è anche servito perché avevo tempo libero per preparare IELTS, che serviva per candidarmi, tutti i documenti. La festa di laurea è super importante. Quindi vedi che avere tempo alla fine è utile, dai? Bene, mentre avevo anche l'altra start-up che avevo in mente, che poi mi è andata a buon fine. Avere tempo, sì, però a un certo punto, no. Dipende, va da persona a persona. Vabbè. Alla fine tu quindi lo consiglieresti? Assolutamente sì, nel senso che mi ha aiutata a dare più praticità alle cose, non so come dire. A vedere poi in magistrale il tutto in maniera diversa, quindi... Ho capito, mi sa. Cioè vedere quello che stai studiando comunque una cosa di concreto e non astratto. Esattamente, esatto. Perché hai già lavorato. Esatto, esattamente. Quindi assolutamente sì, fatelo, chiaro. Non vedetelo come tempo perso, perché alla fine alle aziende piacciono, come ho detto. Non per tutti, perché io non lo so. No, non per tutti, cioè secondo me, ma è anche lì, ognuno ha la sua personalità e ha il suo modo di fare, di vedere le cose. C'è gente che è carica di vivere, non so come dire, che passerebbe tutto il suo tempo a lavorare, presente, forse se non si era capito, e altre persone che magari preferiscono di più anche, non so, la sfera, cioè non incastrare sfera personale e sfera lavorativa. Brutto così da dire, però non so come... No, no, lo capisco. Ho capito cosa intende. Quindi magari chi ha poi l'obiettivo di vedere tante cose, sperimentare, quindi più mentalità imprenditoriale, creativa e voglia di fare, allora ti dico sì, fallo. Perché capisci di più, cioè non... Magari capisci anche poi cosa vuoi andare a fare in magistrale e cambi completamente idea. Anche per chi fa il master, per esempio, che il master è una cosa proprio specifica al lavoro che vai a fare. Esatto. Cioè se io avessi scelto il master, probabilmente avrei preso l'anno sabatico dopo la triennale, perché almeno avrei scelto un master più collegato. Esatto. Invece vabbè, la magistrale rimane comunque un po' più generica rispetto al master. Chiaro. E quindi lì... Quindi se dovessi, diciamo, fare un sunto di questo, cosa ti porti a casa da questa esperienza? Dalla mia, dal mio gapier. Eh. Rispetto ai miei coetanei non ho perso un anno all'università. Ok. Quindi perché quasi tutte le persone che conosco hanno scelto un percorso universitario e poi hanno cambiato un anno dopo. Sicuramente l'inglese? L'inglese, io non sapevo nulla di inglese. Esatto. Invece ho imparato tanto inglese. Ad autogestirti? No, assolutamente. Ok, sapevi già autogestire. Perfetto. No, no, no. Nata autogestire. Non sapevo autogestirmi, infatti non l'ho fatto, cioè non l'ho fatto bene. Però... A vivere da sola? Quello neanche. Vivi... Ok. Beh, dai. Beh, tanto divertimento. Allora, cosa... Parlo di scherzi seri. Cosa ho tirato fuori da questo gapier? La scelta dell'università e della città. Incredibile. Ero una persona abituata ad avere molte figure di riferimento. Invece lì ho capito che volevo qualcos'altro. E autonomia, esatto. Togliere molti dei legami che avevo. Ok. E infatti questo... Questo è vero, questo l'ho notato anch'io. Ah, perché ti rendi conto di quali persone realmente te... Non so come dire, tengono a te con quali più legami. È vero. Però tantissimo. È vero. Poi c'è stato... Poi c'è stato anno all'estero, più covid, più start-up assieme, c'è proprio una pulizia. Vabbè, poi parliamo anche della solitudine di parti, nella prossima puntata. No, però è stata positiva. C'è molto, molto, molto meglio. Molto, molto meglio. Quello anch'io. A me ha aiutato perché poi sono venuta a vivere a Milano e molti mi chiedevano ma perché l'hai fatto i tuoi amici? Ho detto, i miei amici, a parte che la maggior parte vivevano già qua. Sì. E poi comunque quelli che sono rimasti lì ho continuato a frequentarli. Ci sta. Ho semplicemente tagliato dei legami che non mi... Che non andava d'accordo con quello che volevo poi dopo nella mia vita. Sì, è giustissimo. E altra cosa, dell'autogestirsi appunto no perché ero in casa famiglia. Ok. Però ho comunque parlato un sacco di cose positive, per esempio cos'è la tequila boom boom, che è una cosa che mi hanno chiesto spessissimo agli esami. Mi è servito tanto anche i legami con la mia famiglia. Ok. Cioè i miei erano... mia mamma era molto protettiva, invece da lì ha visto come se potesse vivere senza di lei, il che per una mamma come mia mamma, che mia mamma è una persona molto presente. È positivo. Quindi anche i genitori, se ci sono, se sentono questo podcast, non è per forza una cosa negativa. Scapperemo comunque da voi, prima o poi. Quindi... Vabbè. Vabbè, comunque... Va bene, direi che possiamo passare al next step. Però, più che domande, oggi facciamo un gioco a domande. Certo. Perché ci piace così. Certo. Io comunque, io con tutta questa creatività nelle domande non ce l'ho e dovrei essere io a presentare. Molto grave. Mi sono divertita, quindi... Va bene. Può stare. Allora, immaginiamo di dover quindi convincere una persona della community, uno studente, un tuo amico, chiunque tu voglia, quindi immaginiamo un tizio di dover convincere a passare sei mesi nella magnifica città dalla pronuncia semplicissima. Prego, io non so pronunciarlo. All'italiana Bormut, noi dicevamo. Bormut, perfetto, va benissimo. Ok. No, aspetta, questo è il preambolo, adesso inizia il gioco, perché ovviamente... Il preambolo, ok. Per raccontare la tua esperienza partiamo dalle basi e quindi è giusto ripassare un po' la geografia. E per far questo diciamo che parti tu e poi continuo io col momento super quark, in maniera tale da poter convincere quello studente che stiamo convincendo ad andare proprio lì. Per far ciò dobbiamo partire dalle basi, quindi dalla geografia. Lato tuo so che sei molto pro su quello, l'ha studiata, e quindi direi che abbiamo un mappamondo, a te l'onore di prenderlo. Ah no, quello lo gioco in casa, lo so. Vai, vai. Sta a vedere. Vai, e devi portarlo giù. Esattamente, quindi dato il mappamondo dove si trova? Volevo stampare la mappa, però ho detto c'è un mappamondo così bello, facciamolo. Ole. Ok. Un po' di geografia. Allora. Uff. Innanzitutto partiamo dalle basi. Sì. Dove si trova? Sarà sopra. Ma il fatto che il mondo è rotondo, secondo me è sbagliato. Eccoci. No, non sono terrabbiatista. È uno scherzo. È uno scherzo. Prima che poi è sotto. Esatto. Allora. Ok. Attenzione. L'ho cancellato io prima. No, dove cavo? L'Inghilterra. Ma scusa. Ah, è questa. No, non capivo. Pensavo fosse il tutto mare. Fallo vedere però. Sì. Mi sembrava tutto colorato dello stesso modo. È qua. Eh, vabbè, è un po' sbiadito. Me l'ha regalato, non so, quando forse. Quando l'Europa comprendeva l'Inghilterra, ovviamente. Ma dove si trova? In Inghilterra però? In quale parte? Qua, nella parte sud rispetto a Londra. Sì. 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 Va bene, dai. Qua è troppo piccolo. È troppo piccolo per quello il motivo. Vedi, qua c'è Cardiff. Mi fido, dai, dai, mi fido. Già che l'hai trovato è un punto di più. Perfetto, ma diamo anche una mini curiosità. Quindi abbiamo detto che si trova nel tratto costiero, che è patrimonio dell'UNESCO. Quindi, perfetto. Ah sì? Eh sì, non lo sapevi? Ok. Ottimo. È così. Vale. Passiamo alla prossima. Vai. Migliori attrazioni della città. Raccontaci la tua giornata tipo e come passavi le giornate. Studiando duramente. Questo per mamma. Studiando duramente. Poi per lo studente che devi convincere, perché studiando duramente, cioè, sinceramente io non ci andrei. Migliore attrazione? Sì, migliore attrazione. Gli spagnoli. Perfetto. Infatti una curiosità successiva, passiamo dopo, è il posto per fare surf, quindi assolutamente. Quello lo so. Esatto. Lo visti. Quanti nei cuccati? No, niente. Ok. La mia giornata tipo? Ok. Sì, come le passavi? Cosa facevi? Devi convincere sempre lo studente che vuole andare lì. Immaginati di te che stai sfogliando il dépliant e dici, ah, in quale paesino vado? Perché è la capitale, non volevi andare, in quale paesino vado? Ok. Io mi svegliavo, ok? Facevo colazione, prendevo il bus, arrivavo nella piazza centrale. Sì. E da lì mi facevo cinque minuti a piedi e arrivavo a scuola. E per arrivare nella scuola dovevo attraversare la piazza principale con la strada principale con tutti i negozi. Facevi un po' di shopping, quindi ti prendevi bene. Esattamente, facevo un po' di shopping e poi andavo a lezione. La lezione era poco funzionale, nel senso che non imparavi tantissimo. Imparavi le basi, se ti mancavano, ma se avevi già le basi andavi lì per avere il tuo gruppetto, che comunque è molto utile. Poi facevamo pranzo, mangiavamo, andavamo a casa oppure andavamo in giro. Esatto. Io di solito andavo nella residenza, perché c'erano persone che avevano la residenza senza la casa famiglia. Ok, è più divertente. È più divertente, ma... Però impari molto meno l'inglese. Esatto. Nel senso, vedendo le mie esperienze al liceo, quando andavo in casa famiglia, in casa famiglia... Devi parlare per forza inglese. Perché io volevo andare in residenza, ma i miei genitori mi hanno obbligato ad andare in casa famiglia, per la questione dell'inglese. Ok. E quindi ero sempre là, e avevo tutti i miei amichetti così, e fondamentalmente tutta la settimana era un recuperare dal weekend. Eh, ma questo mi sembra molto anche attuale, recuperare tutto ciò che non ho fatto. No, lì era recuperare la sbronza, però. Ah, ok. Era comunque recuperare. Ok. E quindi c'era... Quindi tutto il weekend si partiva dal venerdì e finivi la domenica sera. Sì, morto. Beh, penso che questo sia... Questo è bello. E c'era tutto il gossip, perché la cosa bella è che essendo un paesino, ovunque tu andassi, e c'erano quelli della scuola, in ogni locale, in ogni negozio, c'è sempre la gente della scuola. Beh, a me non piaceva tutto, però. A noi piaceva, ma perché noi eravamo le queen, ovviamente, eravamo, facevamo salotto gossip, cioè, dico, noi, ma tutti. Cioè, eravamo molto belli, eravamo molto uniti. Andiamo avanti, c'è un altro step, poi abbiamo finito. Sono tre foto, tre foto, tre momenti. Ok. Dove state a scegliere, se vuoi raccontare o meno. È sempre Instagram, eh, che ha dato le ispirazioni, quindi la tutuola hai messa nelle storie in evidenza. Ormai. Sero pubbliche. Era della sera pubbliche, quindi tutti in massa a vedere. Partiamo? Vai. Allora, partiamo da quella semplice. Ho scelto questa perché, vabbè, chi lo sa, lo sa, tipo, è anche il mio sfondo del computer, c'è il falò in mezzo alla spiaggia, quindi possiamo farla vedere. Se vuoi raccontarci un po' questo momento, oppure puoi anche scegliere, te ne ho messe due. Questa. Ok. Quella che vuoi. Partiamo easy. Ok, in realtà sono entrambe foto di un momento specifico, la stessa sera. Ah, la stessa sera? Sì. Manco a farla apposta. Sì. No, non l'ho studiata. Perché praticamente un'abitudine di questo paesino era una delle prime sere o forse una sera a settimana a fare questo falò, perché ogni settimana arrivavano persone nuove e quindi lì si conoscono le persone. Ok. Ah, carino. Sì, avevo conosciuto quindi queste persone. Falò dove facevate solo il marshmallow? Perché noi abbiamo fatto proprio il barbecue. Sì, no, lì c'era solo marshmallow, però io sono arrivata in ritardo, non l'ho mangiati. No, strano. Stranissimo. Di solito sei un orologio svizzero, quindi. Esatto. Stranissimo. Uno è di quelle poche volte in cui dici, cavolo. Esatto. Vabbè, non mi piacciono lo stesso, comunque non mi fanno impazzire. Ed eri arrivata a Riccardo perché? Dopo. Ah, non era questa la storia prima. No, perché dopo e dopo, essendo che appunto abbiamo capito che tutti quelli crani presenti sarebbero stati lì o tre o sei mesi, è diventato proprio il gruppetto, siamo andati a cucinare la pasta. Carino, tutti italiani oppure? No, no, c'erano messicani, appunto italiani, svizzeri. Li senti ancora? Sì, sì. Ah, è grande. Ho questo gruppo, ecco questa è una cosa carina, c'è questo gruppo che si chiama le amicette. Sì. Non si sa perché, siamo in quattro e siamo le quattro sempre insieme. E le sento tipo tutti i giorni. Beh, è bellissimo, bellissimo. Sì. Sì, approvo e anch'io quando poi sono in Svezia sono persone che ti rimangono, cioè non so come dire. Le ho riviste fino a non troppo tempo fa. Eh, bellissimo, perfetto. Direi che questo è un modo per convincere. Ok. È vero, cioè nel senso mi ci rivedo anch'io in Svezia, quindi assolutamente. Possiamo passare alla seconda. La seconda è anche sempre molto easy, quindi mi è piaciuta molto questa. Mamma ho perso l'aereo. Dici di più, perché merita. Ok, allora. 6 e 24 poi. Le 6 e 24 del 24 dicembre. Ma è successo realmente che hai perso? È successo, davvero. Davvero? No, non ho perso. No, vabbè, ma bellissimo. Allora, non ho perso l'aereo il 24 di dicembre. Ok. C'è comunque una situazione in cui ho perso l'aereo. Lì avevo scritto. Volevi fare il film. Esatto. Lì ero semplicemente per un casting. No, però non so perché, non mi ricordo. Dovevo tornare in Italia. Eri sbronza. Era, posso andare a vedere se il 24 dicembre era tipo un sabato o una domenica. E' probabile, però ho fatto sta che avevo preso questo aereo in degli orari improponibili. Quindi io ero l'unica in quella casa famiglia, perché poi quelli della famiglia si erano andati, ma anche i propri proprietari. Quindi c'ero io, sono andata a dormire vestita alle 2 di notte, è arrivato il taxi, io mi sono alzata dal letto vestito, preso la valice, sono andata. Sono arrivata in aeroporto, c'ero solo io il 24 di dicembre. Io e un pazzo che sulla strada guidava. Però aspetta, prima avevi perso un aereo? Dopo ho perso un aereo. Ah, dopo l'hai perso? Sì, l'ultimo aereo per tornare in Italia. Sono tornata in Italia con 5 giorni di ritardo. No, aspetta, allora non ho capito io, può essere. Quindi in pratica tu dovevi prenderlo il 24 dicembre e l'hai perso. No. Lì ho scritto mamma ha perso l'aereo per il film, cioè la citazione, perché è un film di Natale. Ok. Però l'aereo l'ho preso. Poi me la sono tirata perché l'ultimo aereo, quello per tornare in Italia... Ah, perché avevi il cambio. Dovevi fare... No, Marti. L'ultimo aereo per tornare in Italia? L'ultimo aereo è quello di febbraio, scusa. Ah, ok, va bene. Esatto. Ok, dicevo l'ultimo aereo prima del... Ok. Vabbè, te la sei tirata. Sì, me la sono tirata. E poi c'è l'ultima. Io mi sa che se... Vabbè, vai. Cosa? Vai, non so. Mi ci viene in mente. Beh, direi che questi occhiali rotti, se vuoi raccontarla... Allora... Instagram è molto... Sì. È stato molto d'ispirazione. Cosa succede? Quella foto, quegli occhiali rotti. Quella sera le mie amiche non sono venute. Ok. E... A posta o era... C'era tutto? No, casualmente. Io mi sono ritrovata con questo gruppo di regbisti che bevevano whisky nei bicchieri da Coca-Cola. Cioè, quelli grossi. Sì, sì, sì. E io dico, vabbè, offerto, bevi, capito? Mi ha dato una trona. La ciucca più grande della mia vita è stata quella sera lì. Perché io fino a mezzanotte l'una ero ok. Entro, mi levo la giacca, il vuoto. Il vuoto. E... Perché ovviamente l'hai bevuto tutto. Eh sì, e poi mi sa che ho mischiato anche dentro, ho bevuto magari un sorso di un'altra cosa che mi ha dato al cervello. E avevo preso anche tipo una pastiglia, non mi ricordo cosa, durante il pomeriggio. Beh, col botto. Sì, è stato tremendo. E una ragazza mi ha portato in bagno a rimettere. Certo. Perché dove... Cioè, stavo male, non ero in me. Prima che però le persone se ne accorgessero, perché non è che stavo male fisicamente, ero proprio mentalmente fuori. Io avevo morso un mio amico, cioè tipo lui magari mi parlava con la mano davanti alla faccia, perché magari non lo so cosa mi stava facendo. Io gli ho preso il dito e l'ho morso fortissimo. E il giorno dopo lui non mi rivolgeva parola, pensando io l'avessi fatta apposta. E non mi ricordavo. Bellissimo. Poi questa ragazza mi porta in bagno a vomitare, ma io, perché lo so, tutto questo mi è stato raccontato dopo, perché io mi sono risvegliata in questa camera d'albergo, che non era mia, ero da sola. Ma camera d'albergo? Ero da sola. Ma che... Ero da sola in questa camera. Quindi io mi risveglio così, mi alzo e dico, dove sono? Dove è il mio cellulare? Dove sono le mie cose? Esatto. Beh, molto ansiante. Molto ansia. Perché poi immagino che volessi ricostruire tutto. Esatto, invece stavo cercando ma non riuscivo. E prendo gli occhiali dal tavolo per vedere qualcosa. Chiaro. Che erano lì per miracolo, c'era un mio amico che mi ha portato lì, era la sua camera, lui è andato in un'altra parte. Ah, era la sua camera. Eh sì, ma io non lo sapevo in quel momento. Ok. Il telefono neanche avevi? E sul momento no, c'era tutto sulla scrivania, quindi io mi sono alzata, non capivo il senso occhiali, non vedo nulla. Sì, certo. Prendo questi occhiali, faccio per pulirli, cioè me li metto e non vedo niente. Dico, madonna che... Lerci, lerci. Li pulisco, pulisco una lente, faccio per pulire l'altra lente. Si toccano le dita. Panico. Dico, non ci credo. Beh, anche perché poi senza occhiali vedi bene, quindi... Esatto, non vedo niente. E in Inghilterra per avere o le lenti a contatto o per rifare una lente, tu hai bisogno di fare proprio la visita. Ah, la visita. E per la visita ci volevano due mesi. E quindi non bastava che io avresti... Quindi come hai fatto? Sono stata due settimane senza occhiali. Meno male che è capitato nell'ultime due settimane. Ah, hai fatto due settimane? Io andavo in aeroporto che dovevo zoomare col telefono gli orari e sono rimasta un'ora agli arrivi. Non sono mai arrivata in quelle circostanze mai più. Bello, bello. Eccoci, fate il gap year. Molto bello. Non pensavo ci fosse una storia così importante sotto. E voto al gioco? Te lo aspettavi? Undici. No, non me lo aspettavo. Domanda, commentate. Avete mai fatto un gap year? Vorreste farlo? Ci avete mai pensato? Ma dove anche e soprattutto? Cosa vi spinge a non farlo? E cosa vi spinge a farlo? O date qualche consiglio? Esatto. Sì. Ciao. 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 E andaci, ciao. Ma che paura? Ma puoi tirarmi fuori questa roba? Sì. Ciao. 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 Grazie a tutti.